La monade. È la sola arma veramente efficace contro la corazza dei Mekan. Dicono che prima dell'alba dei tempi fosse impugnata da Bionis stesso. Lo stesso Bionis su cui noi viviamo ora. Deve avere un segreto. Ecco perché Dunban ha potuto sconfiggere così tanti Mekan. E perché ha perso l'uso del suo braccio destro. Se solo potessi svelare il segreto del suo potere. Shulk? Fiora! Questo cibo è squisito. È troppo buono. Davvero? Da non crederci. Oh Shulk. Lo dici tutti i giorni. Non è vero. È sempre delizioso. Ma oggi è davvero speciale. Dici sul serio? Sì. Grazie al cielo. Ho usato degli odori e delle spezie particolari oggi. Quindi se tu avessi detto che era come al solito avrei avuto la certezza che non è buon gusto. Cosa? Oh, lascia stare. Oh, che brezza piacevole. Sì. La stavo dimenticando ormai. Non credevo che potesse essere così tranquillo qui. Passi troppo tempo con Rhyne. Ormai sei abituato a tutto il baccano che fa. Sì, forse. Ma... Oh, è così tranquillo qui. Sai Shulk, spero che ogni giorno d'ora in poi possa essere così. L'allarme dei triti. Strano. Non sono caduti molti dei triti di Bionis ultimamente. Forse ne arriveranno altri. La batteria antiaerea non ci proteggerà qui fuori. Torniamo al laboratorio. Ok. 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 Ok.